23 dicembre 1986, il più noto dissidente del regime sovietico, Andrei Sakharov, fa il suo ritorno a Musca dopo circa sette anni di confino. Sakharov, che non aveva potuto ritirare il premio Nobel per la pace che gli era stato attribuito nel 1975, era stato confinato a Gorky dalle autorità sovietiche nel gennaio 1980 per le proteste contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan.